Giorni insieme a me e dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Salve, mi chiamo Fouad Dhammendi, sono artista e insegnante di teatro per bambini in una scuola primaria privata. Sono uno studente di lingua italiana nell'università Bida 2 nel terzo anno. Mi sto preparando per partecipare a questo evento maggio dei libri e sono pronto. Grazie. La scuola 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 Annet Il problema di prendere la sua vita 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 Treble E legislar Mecso Dengue Aبحث عنك Yuflito Minc Salome L'Italian Inyatio Divigiria Alessandro D'Uqal Galt Giorni insieme a me Tuoi mani, soli siamo noi In questa notte quando...